Capitolo 6 ragazzi, le rivelazioni, anzi la rivelazione del passato. Ok ragazzi, andiamo a scoprire questo capitolo. Dopo aver combattuto in questa fortezza, comunque il panorama non è male. Comunque quando la Naughty Dog restaura i giochi, fa sempre dei grandi lavori, ma io voglio la 9 mm, scusate. Ok, sicuramente qua ci sarà qualcuno che rompe i coglioni. È alta. E che ci sono dei figli di... e lui ha detto bene, esattamente. E un po' prende la mano, ok. Sto bastardo lassù. Oh. Dove spara? Ma dov'è che spari? Là. Da merda. Ma no, c'è una sensibilità. Che è troppo alta questo coso qua. Ok. L'ho ammazzato? No. Fantastico. Adesso sì. Ottimo lavoro. Bene, andiamo avanti. E... Dove mi arrampico? Boh, forse qui? Forse sì, forse no? Chiedo sotto. Qua di granate sono pieno. Allora possiamo uscire. Ah, ci sono le scale. Che coglione che sono, raga? Ci sono le scale! Va bene. Questa merda. Madonna. Ok. Devo calcolare ogni singolo colpo. Ormai lo sapete. Fammi fare una cosa. Ovvero questa. Se no, non se ne... Esce vivi da qui. Bene, posso? Grazie. Dimmi che questi colpi mi bastano per far fuori l'ultimo, ti prego. Dove cazzo guardi? Meglio di così non potevo ucciderlo. Uccisione super epica. Si è addormentato. E noi l'abbiamo fatto fuori. Ok, io presumo che qua ci sia da andare sulla torre, però mi sa che non è la soluzione a rampicarsi sopra subito. Questa cos'è? Tua madre. No. Credo ci sia da andare là. Credo. Poi chiedo conferme a più esperti. Comunque dentro, come potete ben vedere, c'è poco o nulla. Però aspetta, qua c'è... Un oggetto molto, 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 molto utile. E infatti, si è rivelato tale. Va bene, allora. Apre la porta e quindi noi andiamo dentro. Oh, altri 14 colpi fanno sempre comodo. Siamo risaliti a 41, da 2 a 41, bene così. Ok, qua ci sarà sicuramente tipo da fare il coniglio, come dico io. I salti a destra e a sinistra. Lo stesso simbolo. Ma cosa ha a che fare con la torre? Lo scopriremo a breve. Intanto direi di cominciare ad arrampicarsi dove è possibile farlo. Il che non è per niente scontato, neanche semplice. Questo può essere buono? Può essere buonissimo. Ok. Su. No, 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 Nathan, no. Ehi, vabbè. Fa come ti pare. Su. Destra. Oh, skill! Sali su. Buono un secondo. No. E vabbè, sei stronzo, eh! Sei stronzo! Sei stronzissimo! Ok, ci riproviamo. Ma se andassi direttamente là? Anche perché qua non posso fare niente, quindi secondo me c'è da andare laggiù. Esattamente così lo sapevo. Prendi la liana. Butta giù il coso, fa il domino e noi andiamo avanti. Eccolo. Aia! Grandissimo! Bene, così, andiamo avanti. Questo ha aperto una voragine per terra? No. Ha aperto un cazzo, però. Almeno possiamo continuare la nostra arrampicata. Che a questo punto credo che... No! Vada di qua. Ok. Non cascare. A parte se caschi comunque non c'è da rifare tutto il giro. Quello è buono. Ok. Non me l'aspettavo. Sinistra. Su. Bene, adesso dove andiamo? Qua c'è qualcosa. Sì. Su. Su. Non di qui. Bensì di qua. Giù. Ok. No, 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 no! No, devi saltare. Bravissimo. Lo sapevo che bisognava saltare. solo che il gioco dorme e quindi mi tocca fare tutto all'ultimo. Ok, ma dammi mezzo... Ok. Va bene. È lì la piglio, ma... Ma perché ufficio complicazioni proprio? Devo fare il giro per forza dall'altra parte. No, aspetta. Ok, 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 ok. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Bravo. Hai teso la mano, quindi... Ti butti, bravissimo. Ok, molto all'Assassist's Creed questo, eh. Ma molto, molto. Comunque ci siamo. Un teschio e una corda. Grazie. Ha trovato le chiavi. E mo' con quelle chiavi dove andiamo? Giù, intanto. Ho capito cos'aprono quelle chiavi. L'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito cosa aprono. Aprono quella parte lì, quindi andremo a scoprire qualcosa. Per fortuna non ci sono tanti nemici qua. Anche se qualcuno abbiamo già incontrato. No. Ok. Ok, classica visuale 5D dei giochi vecchi. Andiamo di là. Questa è la stessa visuale del sottomarino. Dove dia? In luoghi chiusi c'era sempre questa visuale nei giochi. Mi davano fastidio che voi proprio non avevate idea. Lo ripeto, va a giocare ai giochi vecchi e ti becchi le conseguenze. 12 munizioni a K fanno sempre comodo. Oddio, questo ragazzi è un campo di battaglia troppo perfetto. Eccolo, lo sapevo. M'ero riparato apposta. Ci mancava anche il omino con la mitraglietta, tanto per... Per condire il tutto. Come ci muoviamo? Ok, almeno uno l'ha fatto fuori. 300 colpi, ma... Raga, non lo scalfisce nemmeno. Ok, vabbè, ti avvicini se coglione. Ok, fuori un altro. Benissimo questo colpo. Se parfait. Aspetta che passino. Ok. Non muore. Non muore. Non muore. Non muore. Non muore. E poi è inutile che gli punti il minino addosso. Comunque, se è di sbieco, spara comunque dove vuole lui, eh. E questa è una cosa che mi rompo un po' i coglioni, ma... Dettagli. Ok. Sto pure finendo i colpi. Che bella la vita. Era ovviamente ironico. Ok, qualcosa ho recuperato. Sì. Ok, tanto ci casco. L'avevi quasi preso e non mi hai preso. Bastardo. Madonna. Questo è culo. Questo è palesemente culo. Avvicinati a quello. Ok. Rimane solo il gentleman lassù. Che però devo spostarmi prima che inizia a sparare. Ok. Non farlo! No! E lo fa lo stesso tanto, quindi ti attacchi al cazzo. Oh, questo potrebbe essere buono però. No. C'è qualcun altro che spara. L'avevo quasi preso. Devi spostarti. Ok, buono. Dentro così. Adesso ti vado sonoramente in culo perché adesso mi sposto e ti vengo a prendere. Eh no, eh no, eh no però eh. Eh, a chi lo dici? Ah, per l'amor di Dio. Lo vedo! All'azione. Ehi! Che tu sia maledetto! Sono testa. Ok, finiti i colpi. Madonna come spara storto! Oh, bastardo! La mitraglietta è tornata. Mitraglietta, mitragliona. Ho già fatta a morire. Devo avvicinare per forza. Non mi devo avvicinare! Perché c'è quel bastardo lì. Sei già morto! Che cazzo l'aveva visto? Ma è che manco si sposta. Ok, forse potrei correre a un metodo che non uso mai. Questo qui. 50 uccisioni. Buono così. L'avrò ucciso. Ok. Ok, è morto, è morto. Munizioni a K. Ok, 13. Un pochino poche, però. 28. Si fa quel che si può. Qua c'è qualcos'altro. 18 per quell'altra. Fanno sempre comodo. Che poi loro possono sparare l'infinito. Insomma, quando ti lasciano i colpi te ne lasciano sempre pochi, eh. Datemi di tutti quelli che avete, eh. Cioè, se ci avete coraggio. Ok, qualcuno sarà morto sicuro. In effetti, è così. Ah, l'ha abbandonata. Aspetta, allora però io adesso posso usare questa. No, 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 no. Ha distrutto la torretta, vero? Dove vado? Mi riporti fuori, vero? Forse no. Ma comunque mi porto in un posto dove c'è altra gente lo stesso. Grazie. Munizioni a K? Munizioni a K. Mo... Mo... Mo, son cazzi. Mo, son cazzi, cazzi. Dovado? Aspetta, c'è qualcosa qui? Sì, c'è qualcosa. Quelli non sono spagnoli. Sono inglesi. Servirebbe una torcia, ce l'hai? Eccola. È un faro. Va bene lo stesso. Fletcher, siamo stati alla torre. Spero che potremmo vederci lì. Francis Drake. Wow. Così ce l'avevi fatta. Ma cosa avevi in mente? Spara per uccidere. Eh, lo so che sparo per uccidere. Bastardissimo. Dove sei? Alla, sta merda qui. Posso andare? Grazie. Ok. Oh, finalmente siamo dove volevo andare prima. Questa deve essere la torre di Drake. Quindi alla tua torre, alla fine. Oh, 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 oh. Un canna battuta. Lo sapevo che era di fritta Francis Drake. Drake. Ok. Ricalcolo. Sì, vabbè, se ogni volta che esco devo prendere un colpo, che esco a fare? Cioè possiamo anche finire il gioco qui, se è per questo. Dopo 300 colpi è morto anche lui. Oh, non lo so. Quanto devo sparare ancora? Undici colpi sono pochi, pochi, pochi. E adesso? Forse qui su? Ok, potrebbe essere una soluzione anche perché ce l'appiglio lì. E ok, perfetto. Madonna che culo. Destra. Questa è più che la rivelazione del passato è la rivelazione del porco e avete capito cosa. Eh sì, ma se non vedo io, cioè, devo andare a tastoni, eh. Sinistra. Sinistra. Madonna che culo. Bravo. Su. Via. Ok. Ok, cominciano i canti gregoriani, quindi forse siamo liberi da nemici, che è la cosa più importante. Mi piacciono i trivia, non combattere. So che molti potrebbero non pensarla così, ma a me piace il trivia. Questo doveva essere di Drake. Insomma, cosa stavi cercando? La figa. Va bene. Ha un'aria familiare. La nave non è mai salpata. Elena. Che si fa beatamente i cazzi suoi. Guarda, questi bastardi. Accidenti. Vedetemi invece che lei. Donna, l'hanno stordito malissimo. Non sarò una cercatrice di tesori come te, ma dubito che troverai il dorado lì dentro. Come ti sei cacciato in questo guaio? Donna. Cercando di salvarti, in effetti. Oh, come sei dolce. Tradizionali mattoni d'aria in aria e stucco. Malta calcarea. Ah, e perché ne sei tanto in proposito? Il mio programma. Episodio 4 Architetti del Nuovo Mondo. Già, basterà uno strattone e verranno via. Cosa? Speriamo. No, aspetta. Sei sicura? Fatti da parte, Vodo! C'è Patan, apriamo questa dannata porta! Ah, aia. Ok, le cazzine non sono state restaurate benissimo, va detto. Affascinante documento, eh? Si vedono i pixel in maniera assurda, anche con l'upscale. E ti porto il rosmarino. tutto qui? Questo è l'accordo. Aiutarti a morire dopo oppure morire subito. Scelta difficile. Ma sai una cosa? Scelgo morire subito. Vai, amo! Ascolta bene, verme. Mi è stato promesso un tesoro su questo maledetto sasso. E ora i miei uomini muoiono, non possono nemmeno andare a fare pipì senza una scorta armata. E io non ho niente da dargli in cambio. Lo sta facendo. Ti sto facendo un'offerta equa. Aiutami a trovare il tesoro. E chi sopravviverà si prenderà l'oro. E la ragazza, ovviamente. Ma se la ragazza non ti vuole? Ragazza? Oh, di lei se n'è andata da un pezzo. Ormai sarà fuori dall'isola in cerca di aiuto. Tu sei in cerca di aiuto. Dai, Cucin. Non sei mai stato bravo a bleffare. La troverò. Fidati. È una ragazza. Che problema? La troverò. No. Eccola la ragazza. Allora, forza, muoviti. Grazie. Ehi! No! Ma la persona dove l'ha messa? Ok. Ottimo lavoro. Grazie. Ehi, ehi, buca pinto! Tieniti. La torretta. Ehi, che carnetta! Inseguiamoli! Ah, questo è il capitolo 7? Dalla padella. Ok, aspetta un secondo. Lo facciamo la prossima volta.